San Concordio, da lunedì, scatta il senso unico in via Teresa Bandettini nel tratto compreso tra via dei Franceschini e via per corte ceci. È quanto indicato nell'ordinanza del comune, che sarà valida fino alla fine dei lavori necessari per la messa in sicurezza della strada, dopo il cedimento di una porzione di muro lungo il canale Piscilla. In particolare, dal 24 aprile fino a data da destinarsi, sarà ristretta la carreggiata in via Teresa Bandettini, nel tratto compreso tra il civico 919 e il civico 817, e sarà istituito il senso unico di marcia in direzione San Donato, con obbligo di svolta a destra o sinistra in direzione a ovest-est per le traverse che affacciano su via Teresa Bandettini, nel tratto di strada interessato dai lavori di messa in sicurezza.